Lorenzo Del Pinto, calciatore aquilano, ex l'Aquila Calcio, ma soprattutto ex Benevento in Serie A, racconta la sua esperienza ai ragazzi del liceo. Lorenzo Del Pinto, infatti, è stato l'ospite della conferenza di chiusura del progetto Entra in Squadra che si è svolto all'Aquila, appuntamento nella lamagna dell'Istituto Cotugno in Via Carducci. Il progetto Entra in Squadra è stato ideato e gestito da Opest Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e ha coinvolto oltre 120 alunni delle classe prime, seconde e quarte dei vari licei dell'Istituto nei mesi di aprile e maggio. Opest Italia ha scelto l'Aquila insieme a poche altre città italiane per lanciare questo progetto che ha visto il coinvolgimento durante un ciclo di lezioni di tutti gli alunni, anche diversamente abili, nella pratica di tre discipline, pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, facendo ricoprire ragazzi e ruoli diversi a rotazione, però giocatore, allenatore, addetto stampa per fare degli esempi. Il testimone all'appunto è stato Lorenzo, che ha raccontato la sua esperienza sportiva agli alunni, è stato molto bravo a toccare le corde dei ragazzi che hanno ascoltato molto interessati l'esperienza di Lorenzo.